salve genitori sono carmela adesso iniziamo a preparare un piatto un secondo piatto e occorrono occorre una carota e una zucchinetta sbollentata un uovo sodo tagliato a metà che procederemo a preparare due pesciolini allora la carota si deve tagliare in questo modo e l'uovo tagliato a metà allora iniziamo a comporre pesciolini iniziamo dalla coda le pinne passolina poca procediamo con le alghe questo è il nostro piatto di due pesciolini con l'uovo a soda o lo ha o o o o o o